E' cominciata oggi la pedonalizzazione definitiva di piazza Castello a Milano 15.000 metri quadrati di area pedonale in più per turisti e milanesi Oggi il traffico in città era poco, la vera prova dopo i ponti primaverili Prende piede l'ipotesi di una moschea in viale Certosa 146 L'operazione sarebbe a costo zero per il comune di Milano A pagare sarebbe lo stato della Giordania Ancora incerto il futuro dell'area oggi occupata dal Palasciardo I dati della CGL parlano di una disoccupazione ancora in crescita Intanto altre ricerche fotografano una situazione ulteriormente difficile per le famiglie La metà non riesce a risparmiare ancora ridotte le spese per vacanza e abbigliamento Parte oggi il cantiere che realizzerà due piste ciclabili in viale Tunisia a Milano Dure le critiche dei commercianti ma il comune tira dritto anche tra i residenti Qualcuno ha dei dubbi sulla bontà dell'opera I tempi di costruzione sono di almeno otto mesi Buona serata, ben trovati all'appuntamento con il TGN L'informazione locale di Telenova In apertura avete visto che Milano da oggi ha un'isola pedonale In più si tratta dei 15.000 metri quadrati di fronte al castello Sforzesco C'è ora un recinto temporaneo in attesa di fioriere, nuove arredi stradali Il traffico oggi però era poco, complici anche le vacanze pasquali E per qualcuno magari il ponte fino al 1 maggio Vediamo com'è andata Inizio soft per la nuova isola pedonale di piazza Castello a Milano Numerosissimi vigili presenti in zona, circa 120 su più turni Oggi l'inaugurazione nella settimana tra Pasqua e la festività del 25 aprile Poco traffico e di conseguenza pochi problemi Bisognerà vedere cosa accadrà nei prossimi giorni quando il traffico si intensificherà Da stamattina è dunque una realtà l'annunciata pedonalizzazione davanti al castello In attesa delle fioriere e dei nuovi arredi Sono state poste temporaneamente delle transenne di plastica bianca e arancio Per delimitare la zona riservata ai pedoni Un'area di 15.000 metri quadrati compresa tra le vie Quintino, Selle e Minghetti Destinata a manifestazioni culturali e sportive oltre a iniziative di vario tipo Spunteranno nuovi chioschi, panchine e anche sdraio Le auto dei residenti potranno circolare nei controviali E sono aumentati i parcheggi sulle strisce gialle Mentre sono quasi scomparsi quelli sulle strisce blu I pullman vengono trasferiti nel lato del castello verso l'acquario In pratica il traffico è stato deviato su Foro Bonaparte E qui ci sono grosse perplessità da parte di residenti, commercianti e anche delle opposizioni a Palazzo Marino Che ipotizzano possibili paralisi nella circolazione stradale durante le giornate di traffico più intenso Il centro-destra intende promuovere anche possibili ricorsi legali E proprio Foro Bonaparte è diventato a doppio senso all'incrocio con Via Legadio Via Legadio a sua volta ospita una corsia preferenziale per mezzi pubblici e taxi Sino a Via Quintino Sella Via Lanza è diventata senso unico da Foro Bonaparte verso il castello Sono stati distribuiti 13.000 volantini che illustrano le novità viabilistiche L'assessore Pierfrancesco Marana ha fatto sapere che le prossime settimane serviranno come test Ed eventualmente potranno scattare modifiche o migliorie alla pedonalizzazione Intanto la linea 57 non passa più dal castello Ma sono state collocate nuove fermate nelle vicinanze Restiamo a Milano, parliamo di Moschea Moschea che presumibilmente si farà e sarà in Viale Certosa Il Comune di Milano continua a discutere con i delegati del governo Giordano Per costruire un centro islamico anche in vista di Expo Nelle prossime settimane la Giunta dovrà però sciogliere le riserve Il rebus sulla costruzione della Moschea Milano potrebbe risolversi con la soluzione di Viale Certosa Il progetto al quale sta lavorando Palazzo Marino insieme ai rappresentanti della Giordania Prevede un centro islamico al civico 146 Il sindaco Pisapia e la sua Giunta lavorano per garantire un luogo di preghiera Ai musulmani residenti nel capoluogo Lombardo E ai tanti visitatori che arriveranno il prossimo anno per Expo Viale Certosa alla periferia nord di Milano Si trova proprio sulla strada tra il centro città e il sito espositivo di Ropero La soluzione giordana permetterebbe di tagliare fuori il CAIM Coordinamento dei centri islamici milanesi Ritenuto da molti più vicino alla fratellanza musulmana Più radicale e quindi a rischio fondamentalismo Le relazioni tra Milano e la Giordania sono poi consolidate negli anni Grazie al rapporto costruito e alle visite della regina Rania Anche se il CAIM a livello di numeri risulta più rappresentativo rispetto al numero dei musulmani presenti a Milano La soluzione di Viale Certosa presenta però qualche difetto Ad esempio la zona non è servita da metropolitane ma solamente dalla linea tramviaria 14 La strada poi è grande e molto trafficata in una zona densa di uffici con pochissimi condomini Insomma qualche problema legato alla localizzazione c'è ma il tempo stringe Palazzo Marino dovrà prendere una decisione definitiva nelle prossime settimane E decidere a chi affidare la costruzione Un'operazione che sarà a costo zero per le casse comunali Parliamo ora invece di lavoro ancora note e dolenti Che arrivano dai dati sulla crisi diffusi dalla CGL Lombardia Relativi ai primi tre mesi del 2014 Il ricorso alla cassa integrazione segna un più 12% I licenziamenti arrivano un più 46% Nessun segnale positivo secondo la CGL della Lombardia I dati della crisi nei primi tre mesi dell'anno sono sempre particolarmente allarmanti La cassa integrazione è aumentata complessivamente del 12% E i licenziamenti del 46% Nella nostra regione secondo Giacinto Botti della CGL Lombardia Anche tra gennaio e marzo di quest'anno si registra una riduzione del tasso di attività Oltre al crollo dei consumi e delle attività commerciali Per la Lombardia il problema principale resta quello di creare occupazione Di riprogettare una struttura produttiva, innovativa e di qualità I dati attuali però sono sconcertanti Solo la cassa integrazione ordinaria è calata del 20% Quella straordinaria ha avuto un incremento di quasi il 28% E quella in deroga del 78% Complessivamente dunque un aumento che sfiora il 12% Tra le città più colpite è Milano, Brescia, Varese, Bergamo, Como e Lecco Tutti i settori registrano tassi di crescita della cassa Ma i più colpiti sono l'estrazione dei metalli Il commercio, gli alimentari, il legno, la meccanica e l'abbigliamento Per quanto riguarda le persone che hanno perso il posto di lavoro Nei primi tre mesi dell'anno segnano un incremento del 45,73% Rispetto allo stesso periodo del 2013 7.785 licenziati tra gennaio e marzo E di questi 2.299 nel solo mese di febbraio A Sondrio l'aumento dei lavoratori posti in mobilità ha raggiunto il più 3.466% A Varese più 180, a Como più 165, a Bergamo più 95% e via dicendo La CGL ha spiegato che a questi licenziamenti si aggiungono a gennaio e febbraio 35.300 richieste di mobilità nelle aziende sotto i 15 dipendenti E purtroppo questi numeri poi si traducono in numeri concreti e drammatici Per quanto riguarda le famiglie E vengono questi fotografati da una ricerca Più della metà delle famiglie milanesi non riesce a risparmiare La crisi si manifesta soprattutto per adesso in abbigliamento e vacanze Mentre i discount diventano sempre più meta anche dei milanesi In difficoltà non soltanto degli stranieri come invece solitamente è sempre stato I dati sono di una ricerca realizzata da Ipsos Vediamo Oltre alla metà dei milanesi il 56% non riesce più a risparmiare Spende tutto quello che guadagna Il dato emerge da una ricerca realizzata da Ipsos E commissionata dalla Camera di Commercio e il Comune di Milano Ma i numeri dicono molto di più E fotografano una città sempre più in crisi E soprattutto preoccupata del futuro Il 74% delle famiglie cerca di affrontare la crisi Diminuendo gli acquisti e andando a caccia di sconti E a farne le spese sono soprattutto gli acquisti di beni non primari Il 25% dei milanesi taglia su abbigliamento e calzature Vacanze, apparecchiature domestiche e mobili Questo lo stato di fatto delle famiglie Ma il dato che fa riflettere è anche il timore Che la situazione è peggiori Sono 8 su 10 milanesi che si mostrano preoccupati Per una spesa improvvisa di oltre 10.000 euro Affermando di non sapere dove trovare il denaro Mentre un terzo delle famiglie, il 34%, teme un ulteriore calo del reddito La buona notizia è che il 95% degli intervistati si mostra attento al risparmio energetico Almeno la crisi aiuta a tutelare l'ambiente Se per i milanesi la situazione non è rosea Per gli stranieri è ancora più preoccupante Quasi un terzo della popolazione straniera ha diminuito tutte le spese Dai beni di consumo all'abbigliamento Senza contare che le spese per l'affitto gravano di più sulla popolazione immigrata Che possiede la casa solo per il 18% Infine la spesa, se gli italiani puntano sugli acquisti online o cercano gli sconti Gli stranieri vanno sul sicuro e si recano nei discount Una fotografia allarmante commenta l'assessore al lavoro Cristina Tajani Che spinge il comune a cercare di potenziare le iniziative di sostegno al reddito Come quella appena realizzata con un potenziale di 2 milioni e mezzo di euro E di contro, a contraltare questa notizia C'è che via Monte Napoleone a Milano È la strada dello shopping più cara d'Italia Un report a cura della Federazione della Moda Italia di Confcommercio Racconta di cifre irraggiungibili Per i più 100 metri quadrati di negozio costano 670 mila euro di affitto all'anno Via della Spiga arriva a 500 mila In via Condotti a Roma per un negozio di 100 metri quadrati Si pagano canoni di affitto fino a 640 mila Quindi simile ma al secondo posto Meno pesante l'investimento invece per un negozio a Napoli In via Toledo dove costa un massimo di 110 mila euro di affitto Per arrivare a 160 mila per 100 metri in via dei mille I canoni di affitto delle high street italiane restano stabili rispetto al 2012 In particolare in città come Milano, Torino e Verona Mentre a Genova, Firenze e Venezia è stata registrata una contrazione Ma soltanto del 2% sugli affitti Notizia di Cronaca avrebbe abusato di una bambina di 10 anni Costringendola a subire ripetute molestie Per questo un 43enne è stato arrestato dai carabinieri Con l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali In un paese della provincia di Varese A sporgere denuncia è stata la madre Insospettita da alcuni atteggiamenti della bambina Dalle indagini sono emersi riscontri concreti Sulle violenze dell'uomo che frequentava la famiglia E ora è in stato di arresto ATM si prepara in vista del 2015 Di Expo 20 milioni di visitatori attesi Per l'esposizione con il trasporto pubblico milanese Chiamato ad una dura prova Dall'estate arriveranno i nuovi treni Per la linea 1 della metropolitana Abbiamo sentito anche il presidente Rota Si chiude con un utile consolidato di 5 milioni e 300 mila euro Il bilancio 2013 di ATM Approvato oggi dall'Assemblea degli azionisti Un risultato importante sottolineato dal presidente Bruno Rota Soddisfatto per aver chiuso i conti in attivo Nonostante i tagli al contratto di servizio Dai 739 milioni di euro del 2012 Ai 731 del 2013 Nel panorama del trasporto pubblico locale disastrato ATM si conferma che quest'anno come un'azienda solida Che sa dare un buon servizio ai cittadini E nello stesso tempo mantiene i conti in ordine L'Assemblea degli azionisti è stato anche il momento per fare il punto Sulle sfide del futuro per ATM E in modo particolare sulla preparazione al 2015 L'anno dell'esposizione universale Che dovrebbe portare a Milano Secondo le stime 20 milioni di visitatori In estate arriveranno i nuovi treni da immettere Sulla linea metropolitana 1 Pagati 220 milioni di euro da ATM Grazie a un prestito ottenuto dalla Banca Europea degli investimenti Sempre nel 2014 inizieranno le consegne dei bus urbani Meno inquinanti rispetto agli attuali bus Euro 2 Nei prossimi mesi usciranno anche i bandi di assunzione per il personale Necessario per far fronte al picco di utenti previsto per Expo Expo è la grande sfida per il bilancio del 2014 Anche perché molti dei costi legati ad Expo Dovranno essere sostenuti quest'anno L'azienda è chiamata uno sforzo eccezionale Con nuove assunzioni Con nuovi mezzi che stanno cominciando ad arrivare Speriamo di riuscire a mantenere anche nel 2014 Questo difficile equilibrio economico Questa è la sfida di quest'anno Si può dire salvo per miracolo Il custode del Delta Hotel di San Donato Milanese Che oggi è rimasto schiacciato Sotto questo pesantissimo cancello elettrico Di acciaio e vetro che pesa diverse tonnellate La struttura è uscita dalle guide per ragioni ancora da chiarire E' piombata addosso all'uomo che è un sessantenne L'uomo ha riportato qualche frattura Ma niente di grave Può dirsi fuori pericolo Per sollevare il calcello sono intervenuti addirittura i vigili del fuoco Poi l'uomo è stato portato al San Raffaele La fortuna è stata la presenza dei gradini che vediamo Sotto cui il corpo è rimasto bloccato Ma non completamente schiacciato E oggi a Milano hanno preso il via i lavori Per la realizzazione di due corsie ciclabili Siamo in Viale Tunisia Molte le critiche da parte dei commercianti Della zona di alcuni residenti Ma il comune intende comunque tirare dritto La costruzione sarebbe realizzata in otto mesi Operai all'opera in Viale Tunisia a Milano Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione Della pista ciclabile Che collegherà Corso Buenos Aires Con Piazza della Repubblica Esattamente saranno due piste ciclabili Una per ogni direzione di marcia Sui due lati di Viale Tunisia Dunque il progetto è partito Nonostante la contestazione dei commercianti Che lamentano la cancellazione Di decine e decine di posti auto Lungo i marciapiedi I negozianti hanno raccolto firme Contro questa realizzazione E sono comparse anche locandine Che lanciavano accuse di tangenti Per gli assessori E questo ha causato una denuncia penale Da parte della giunta di Palazzo Marino Coro di consensi invece Dalle associazioni ambientaliste E da quelle dei ciclisti La giunta Pisapia sta seguendo il progetto Per una mobilità milanese più sostenibile La ciclabile di Viale Tunisia Si inserisce in un più ampio progetto Per rendere la città più fruibile Per quanti si spostano in bicicletta Da Corso Venezia Le vie Palestro e Senato All'interno del più lungo percorso Da piazza San Gioacchino Sino a Porta Garibaldi I lavori dureranno otto mesi Costo 800 mila euro L'intervento partito stamane Riguarda la prima parte dell'opera Da Corso Buenos Aires A Via Lazzaretto Le corsie ciclabili In Viale Tunisia Verranno realizzate Allargando i marciapiedi E verranno contrassegnate Da asfalto di colore rossastro Restiamo in tema viabilistico Perché riprende la battaglia Per gli olmi di via Mac Mahon Nelle prossime ore Sarà depositato anche un esposto Alla procura E per martedì 6 maggio Annunciata una manifestazione Cittadina con partenza In piazza Diocleziano Dove iniziano i due filari Alberati che vediamo Con 170 olmi Piantumati negli anni 50 La battaglia aveva già avuto Diversi momenti accesi E ricominciata quando È stato pubblicato Un bando di gara d'appalto Da parte di ATM Che secondo i comitati Contro il taglio degli alberi È il preludio Alla sostituzione degli stessi Su quali piante mantenere Oppure no Sarà deciso pianta per pianta Rimuovendo quelle pericolose O in condizioni peggiori I cittadini però Avevano formulato Proposte alternative precise Estendere a tutti gli alberi Più grandi Le prove Che si chiamano Georadar Per conoscere preventivamente La posizione delle radici E poi realizzare L'intervento In via sperimentale Solo su un numero Di alberi limitato 6 o 8 E infine decidere Se continuare nel progetto O modificarlo I problemi In effetti Sono sorti Quando le radici Hanno reso insicuri I binari del tram Che stiamo vedendo In questo momento Parliamo di politica Andiamo in regione Lombardia Rimpasto imminente In regione Lombardia Il capogruppo Del nuovo centro-destra Parolini Prenderà le deleghe Al commercio Turismo e Expo Dopo le pressioni Degli uomini di Alfano In Lombardia Ma Forza Italia Non ci sta Prova a resistere Sembra cosa fatta Il rimpasto In regione Lombardia Il presidente Maroni Ha dovuto cedere Alle richieste Del nuovo centro-destra Gruppo uscito Dal PDL Al momento Della scissione A Roma Tra Berlusconi e Alfano Un gruppo Che oggi può contare Su ben nove consiglieri Lo scontro sulle poltrone Ha causato fibrillazione In maggioranza Nel corso Delle ultime settimane Con il nuovo centro-destra Che ha fatto cadere Il numero legale Sulla bozza Di statuto speciale Tanto cara Maroni E ai leghisti Bozza votata in seguito Grazie a un patto Preliminare Sul rimpasto Ad essere sacrificato Sarà l'assessore ai trasporti Il forzista Maurizio Deltenno Valtellinese Ex parlamentare PDL Sponsorizzato da Dennis Verdini Secondo le indiscrezioni In giunta Entrerà il capogruppo Di NCD Mauro Parolini Che dovrebbe avere Un ruolo di peso Con le delega Al commercio Al turismo E ad Expo Mentre l'attuale Assessore al commercio Cavalli Si sposterà Sulla poltrona Lasciata libera Da Deltenno Ai trasporti Un rimpasto Che fa segnare L'aumento Delle tensioni Tra NCD E Forza Italia Che con dieci consiglieri Oggi conta Su ben cinque assessori Contro l'unico assessore Degli alfaniani Mario Melazzini I berlusconiani infatti Chiedono che la giunta Venga allargata Con un assessore in più In modo da non perdere posti E attaccano Per la coordinatrice regionale Maria Stella Gelmini Quello dei uomini di Alfano È un atteggiamento ricattatorio Forza Italia Non accetta ridimensionamenti L'ultima parola Aspetta però A Roberto Maroni Che difficilmente Potrà scontentare un gruppo Che oggi Contando su nove consiglieri È necessario Per tenere in piedi La maggioranza Si è aperto Questa mattina La Maidstone Crown Court Siamo nel Kent In Gran Bretagna Il dibattimento Nell'ambito del processo Per l'omicidio Di Gioele Leotta Il ventenne di Nibionno Provincia di Lecco Ucciso lo scorso 20 ottobre In Inghilterra Che vede imputati Quattro uomini Di nazionalità lituana A causa Di un'indisposizione Di un membro Della giuria Il giudice Ha dovuto rinviare A domani Il sopralluogo Nell'appartamento Dove Gioele E l'amico Alex Galbiati Sono stati aggrediti Ferocemente E picchiati Fino appunto A portare alla morte Di uno dei due ragazzi In aula erano presenti Sia i genitori di Gioele Giunti in Inghilterra Per seguire il processo E quelli di Alex Che hanno accompagnato Il figlio a Maidstone E atteso per domani Pomeriggio L'inizio della testimonianza Appunto di Alex Che dovrà ricostruire Gli eventi Da sopravvissuto Nella notte tragica Dell'aggressione In cui Gioele È rimasto ucciso E Alex invece È stato solo ferito Terminano qui Le notizie Del TGN Di oggi Su Telenova Canale 14 Rimando ovviamente L'appuntamento Per domani Dopo di noi La pubblicità Poi il meteo Per i prossimi giorni A seguire Jacopo Casoni Con i suoi ospiti Per Nova Stadio Sprint E poi invece In modo eccezionale Quest'oggi Ci saranno Gli amici di Griglia di Partenza Si parlerà di motori In prima serata Su Telenova Io vi saluto Vi ringrazio Per l'ascolto Vi auguro Una buona serata Grazie a tutti